è giusto dire in maniera tecnicamente precisa overmai la crescita dovesse riproporre un piccolo aumento dei tassi di interesse come dovrebbe essere logico questo inciderebbe sullo stock totale del debito in maniera molto significativa non c'è in questa data e quindi nella valora di viaggio una riflessione attenta su come strutturalmente ridurre il debito che è la vera piaga della nostra economia e per questo signor Presidente il luogo contrario è alla nota di aggiornamento e alla relazione per lo scostamento di meglio termine, grazie Grazie signor Presidente Signori rappresentanti del governo, colleghi senatori Lei signor Presidente ci ha ricordato all'inizio di questa seduta che dobbiamo esprimere due voti tra poco il primo voto è un voto di assoluto rilievo costituzionale e che ha anche un rilievo nella collocazione internazionale ed europea dell'Italia e francamente io rispetto tutte le opinioni di tutti i colleghi ma faccio fatica a capire le ragioni per cui le principali grazie a tutti grazie a tutti